M'è il video sul Team Fortress? M'è il video sul Team Fortress? Murry! I video sul Team Fortress! Ma Team Fortress te lo sei scordato? Oh ma Team Fortress... Ciao a tutti ragazzi, qui mi sono Star for Troncx Murry E oggi sono qui con Jumpy Tech su Team Fortress 2! No... io sono sopra una bilancia... ciao bilancia... Come ti chiami? Ok Forever Alone Jumpy Tech... Visto che moltissimi di voi me l'hanno chiesto... X-Wool Repair! Vai il Team Fortress 2! Fate 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 2! Va bene... No no l'ho capito! Fate 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 2! Ciao Jumpy Tech intanto è la prima volta che ti inquadro da questo video... Ehm... Comunque... Sì dai... andiamo intanto... andiamo intanto a cercare... AHHHHHHHHH! E' morto... E' finito... È finito, è finito, zio, è finito. Quello tu sei finito. No, non sei finito. Ok, sto ammazzando tutti. Porca miseria. Mannaggia. Vai, transò, lexmoveri, questi uccide tutti. Oh, aspetta, mi serve vita. Comunque, una piccola introduzione prima di scaderare il delirio, che sicuramente si prevede una partita abbastanza... Tipo... Esatto. No sense, così. Senza controllo. Vi dico subito che non ho avuto tempo questa settimana di reccare il mio solito video cazzuto. Oh, sei che sono morto. Causa bordelli vari a scuola, occupazioni e cazzi vari. Io devo occupare XX. Oh, che cazzo vuoi? Io mi sono divertito. Però ho capito, purtroppo la vita è una brutta cosa. Infatti a dicembre mi chiuderò in me stesso, vi preparerò un mese molto bello potente. Mi chiuderò in me stesso e al no life in... Eh, cosa avete stato questo bip? Vabbè, non fa niente. Comunque, vabbè, giochiamo. Adesso io sto usando il pyro perché sinceramente mi rompo il cazzo, sei sempre il medico. Sembro sempre la spalla destra di Jumpy e non voglio fare il passivo. Oh, mi sono detto che vale per il passivo. È brutto. Cioè, sembra che la prendono nel deretano. Vabbè, ora divorziamo, te lo dico qui. No, vieni qua Jumpy, non vuoi mai divorziare, perché noi siamo i più belli di YouTube. Siamo la coppia più gay del mondo. Cazzo, cazzo! Muori! Muori! Sì! Ah, minchia! Vuole che mi killa le steal. No, che mi killa le steal! Volevo dire che mi steala le kill! Che vuol dire? Infatti dicevo che vuol dire mi killa le steal. Mi ammazza il ferro. Tipo steal. No, steal che cazzo è? Vabbè, ciao a tutti. Stile è rubare. No, sì, però... Vabbè. Bene, questa puntata di Team Fortress non ha un cazzo di senso. Ok, basta. Ma tu da quando hai senso nei tuoi video? Minchia, zio, non mi dirai niente. Ma è transolo. Oh, tu stai prendendo per bene fuoco. On fire, on fire, on fire! Vai, sei morto, zio, non ci pensare più. Perché il mio PG... Oh, Dio, cederò. Guarda, oh mio Dio, guardate la killfidi di Jabby, dai, fra poco. Guardate la killfidi di questo persona. Oh! Mori, 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 mori. Arrosticini. Ho sbloccato arrosticini. Minga, minga, minga. Oh, bisogna festeggiare gli arrosticini. Aspetta. Vai. Aspetta. Che cani mi piace fare gli arrosticini, picciolto. Aspetta, aspetta gli arrosticini. Ci penso io. Che stai facendo? Gli arrosticini bisogna festeggiarli. Veramente qualche suono strano. A posto. E' fatto. Com'è che non si sa? Aspetta. Cos'è un treno? No. Quello è, quello non sono io. Ah, quello è il gioco? Ok, tranquillo. Eccolo qui! Davvero Dixmort. Sì, vabbè. Visto? Poi ora sono costretto a picchiarti. No. Vabbè. Cos'era quel suono strano? No, era tipo una feature del mio nuovo Samsung Lumia. Samsung? Salve. Io sono un Samsung Lumia. Ah, mio figlio. Samsung Lumia. Picchia fuoco. Senti se ti sano. Ok, c'è l'ignore. Sì, esatto. Tipo... Causa Forever. Poveri. Ti do fuoco, faccia di morra. Boom. Oh, sento la campanella a ripetizione. E' bellissima sta cosa. Perché basta tipo una fiammatella e lui continua a prendere fuoco come un marshmallow. Buoni marshmallow. Buoni. Manco io. La vita triste di Jumping the Cakes Moon. Esatto. Ma seriamente... Siamo in America quando vanno nel parco. Facciamo i marshmallow. Poi ci chiediamo perché siamo così sclarati e facciamo i video su YouTube. Perché non abbiamo i marshmallow in Italia. Ed è una cosa triste. Ciao a tutti. Ma che cazzo dici? Vedi che esiste i marshmallow in Italia? Diciamo cazzate. Ripendono i marshmallow. Mio padre mi aveva detto che non esistevano. Ok, dopo andrò a parlare con mio padre. Va bene. Esistono i marshmallow. Io l'ho visti da Carrefour. Sono 16 anni che mio padre mi dice che non esistono i marshmallow in Italia. Va bene, papà. Che cazzo dici? Va bene. Gli marshmallow esiste, sono dei cosi morbidi. In realtà non volevo comprarmi lo stronzo. Va bene. Esatto. Ok, va bene. Ti ucciderò. Ci pensiamo. Ci penseremo. Prima devo ammazzare questo scout di merda. Oh, faccia di sborra. Ah, scusate per le parolacce. Non ditele a casa. Do not try this at home. Do not try this at home. Oh, mio Dio. Le stesse cose. Questo significa quanto siamo proprio insimbiosi. Visto, poi dice che dobbiamo sposarci. Sì, no, ma dobbiamo fare tanti bambini. Oh, ho sbloccato la cosa. Il colpo diretto. Ok, riprendi partito. Lui sblocca tutto. Io vado a 300 FPS. Io vado a troio. Eh, 300. Va bene. Ciao. Ok. Tipo, noi dovremmo conquistare qualche punta, tipo... Eh, sì, però non so quale. Salve. Non so quale punta. Pezzo che sei in ordine. Ok, forse questo. C'è l'ingresso. Aspetta. No, niente. Vai. Che cazzo è che questo non prende fuoco? Perché lui ha il bonus infuocabile. Che significa che se tu lo infuocchi, lui non si infuoca. Oh, ma è vero forse, puttana. Ah, no, l'ho preso fuoco. L'ho ammazzato. L'ho preso fuoco. Ma... L'ho preso fuoco. Oh, che cosa è? Oh, tipo, mi si era bancato il fucilazzo. Fire, fire, fire. Ah, io ho già caputo dove devo conquistare. L'inghia, interessante, zio. Minchia, mi ha ucciso. La torretta. Niao, torretta. Ma perché ce l'hai come? Ok. Eh, su. No, adesso cambio classe. Come si chiama con la... Ok, così. Oh, tutto che mi spara. Beh, per Dio. Vediamo questo... Oh, Cristo. Oh, il soldato. Tranquillo, dovrei morire. Boom, te ne trasporto. Oh, Pyro, mi ha infuocato. Amico di Spurri. Oppa, Pyro style. Ho preso la vita e mi sono disfuocato. Disfuocato. It's epic for me. It's epic. Mi to prende top epic. No! Oh, mio Dio, aspetta. Oh, oh! Ok. C'è che mi sto sparando? La torretta nel mio culo. Salve, torretta. Del tuo culo. Ma non ci sono più nemici? Ci sono, ci sono. Ma dove minchia sono? Ci sono i nemici. Ci sono tutti. Oddio, c'è uno col cappello da messicano. Quando sento Maria Dolores. Quando senti Maria... Basta. Baila, baila, baila. Baila, baila. Baila me. E sta l'ombra è taitana. Io te sento e canta. Basta. Ma perché? È la canzone quella... Che traumi ha avuto. Del film o l'è. Vabbè, i film stupidi. Vabbè. Ma guarda che facevo il rito. Vabbè. Ma che per esempio è che non trovo nemici? Un grosso che bola. Ok, quello mica sa che quel grosso non creperà mai. Però tu creperai. Tipo. E anche tu creperai. Mori? Ma non muore. Oh, aspetta. Sto medico... Che minchia fa sto medico? Eeeh, brairo che... Cazzino. Io non sono sclerato. Curnuto, muore, Curnuto! Bastardo mi ha ucciso. Porca è. È un bastardo per il X-Morey. È un bastardo per il X-Morey. E non sono più on fire. Sono morto. Infatti, sono on fire. Cambio classe. Come cazzo ha fatto? Porca troppo. Come si cambia classe? Così. Con la Y. Metto anche io il Pino. Il Pino. Il Pino dei palazzi. Un balordo delle casse corporali. È un tipo... Miemo! C'è, sigarette! Vai. Eh, purtroppo non ne fanno più di questi in televisione. Vabbè. Gampite? Va benino. Tipo, va bene. Televisione. E per caso ho detto televisione, voglio diventare famosa anche io. Vabbè. E tu inventati un tormentone. BOOM! One shot, bitch. Just one shot. Io ho messo il tiro. Hai visto che questi nomi sono tutti sfocati, belli fighi? Tipo dal bianco al rosso. Ah no, proprio il burro. Dai, madonna. Ma quando non apro Team Fortress? Non lo apro, da tanto tempo. Devo cambiare classe di nuovo. Porca troia, metto questo. Le provo tutte. Tu le provi tutte, bravo. Eh, perché te lo spiego. Oh, vado tutti in fiamme! Oh mio Dio! Tutti in fiamme! Non hanno ucciso nessuno. Rosticini. Visto? Oh, cliccate mi piace per gli rosticini. Due rosticini in una sola partita. Questo significa FUTV. Ma non è colpa sua, dovete sapere. Io l'ho conosciuto così, in realtà. Guarda che abbiamo vinto la partita! Sì! Abbiamo perso, veramente. Abbiamo perso! Io sto scappando. Ok, ragazzi. Questo video... Oh! Mi hanno ucciso. Va bene, ragazzi. Questo video di Team Fortress 2 finisce qui. Io spero vi sia piaciuto, perché... E me lo avete chiesto. In tantissimi... Se è così, fatecelo sapere. Oh, guardate che spadone che ho! Dove sei? Guarda, mi inquadratelo già. Dove sei? Dove sei? Allo spawn che sparo fuoco. Perché? Non c'è un motivo. Comunque, fammi finire di salutare. Eh, se il video è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel mi piace. E scriveteci nei commenti se ne volete altri. E consigliateci magari anche che tipo di video fare su Team Fortress. Perché comunque... Un live ogni tanto ci sta, ma poi è anche bello fare proprio dei video ben sicuri. Un live ogni tanto ci sta. Basta. Ciao. Lo ho, mi sono dato fuoco. Comunque, io lascio salutare Jumpy e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao ciao!